Amici, oggi sono qui per ricordarvi che noi abbiamo 7 Champions, abbiamo vinto 19 Scudetti, siamo la squadra più titolata italiana in Europa. Volevo ricordarvi solo questo perché noi non siamo una squadra da quarto posto, noi dobbiamo vincere lo Scudetto per la seconda stella e dobbiamo andare a vincere la Champions almeno uno di questi anni. L'anno prossimo voglio vincere la Champions, voi direte che sono un pazzo e che non si può vincere la Champions, ma se noi, se i ragazzi ci credono, ce la possono fare come se siamo arrivati in semifinale possiamo arrivare in finale. Dobbiamo fare lo stesso percorso dell'anno scorso e poi battere quella che c'è in semifinale, non è che ci vuole tanto arrivare in finale e poi vincere la finale, non è che ci vuole molto. Basta che abbiamo un pochino di fortuna in tutta la baracca dei sorteggi. Adesso noi abbiamo avuto il Ren in Europa League, ieri non vi ho fatto il video, ma comunque ve lo volevo dire che abbiamo beccato il Ren, l'avete seguito comunque. Ma noi dobbiamo vincere la Champions e anche lo Scudetto, cavolo. E almeno vincere l'Europa League quest'anno, quello è l'obiettivo, è anche la Coppa Italia, perché se non vince l'Europa League vuol dire che Pioli a casa, anche se non lo manderanno mai via. Poi se ci fa vincere lo Scudetto e il Rimonto, che ne sapete comunque, questo video è realistico, è finito. Volevo solo ricordarvi che abbiamo 7 Champions, 19 Scudetti e tutto è possibile, perché il pallone è rotondo e quindi noi ci vediamo domani mattina con un nuovo Shorts e domani pomeriggio con un nuovo video. Ciao amici, buona serata, ciao!